Oggi splende il sole, il tempo è bello e la spiaggia è quasi piena, però questi mesi d'estate sono stati un po' problematici per i balneatori. Io faccio questo lavoro da oltre 40 anni, la mia famiglia gestisce i ridi dall'inizio agli anni 50. Devo dire che non mi è mai capitata una stagione così negativa, purtroppo fa parte anche questo del rischio di impresa. Però noi abbiamo chiesto che in questo momento particolare possa essere a noi riconosciuto l'abbattimento del canone che è previsto da una legge dello Stato e che successivamente possa aprirsi un tavolo con le parti sociali per consentire anche alle imprese balneari l'applicazione della cassa integrazione in via straordinaria. Insomma, ci sono margini di recupero in questi ultimi 20 giorni se il tempo dovesse finalmente assistere chi viene a villeggiare a Pescara, ma non solo su tutta la costa abruzzese? Se il mese di settembre è un mese che come clima consente, vogliamo aprire anche lì la discussione con la Regione Abruzzo per la decentralizzazione per quanto riguarda l'apertura scolastica. Perché se il tempo è bello, perché no pensare come fanno in altri posti dove l'inizio scolastico riparte dal 20 di settembre. Se tutto dovesse andare come ci si augura, possiamo quantificare più o meno quanto hanno perso i balneatori? Il turismo balneare costiero oggi sta intorno al 40% di calo di presenze e calo di incassi. È un problema serio, diventa un altro problema ai fini degli studi di settore, perché con il regime fiscale un po' incasinato che ci sta in questo paese, noi dobbiamo comunque giustificare e sarà all'inizio di ottobre anche un altro problema tecnico fiscale. Però cerchiamo di mettere in positivo, godiamoci questo strascio finale della stagione 2014, sicuramente la metteremo come un ricordo negativo, non positivo. E intanto però questo deve stimolare a programmare e a pensare che per l'anno prossimo comunque una politica sul turismo per valorizzare la nostra regione va fatta anzitempo.